Copumbria Cassa è una cooperativa a cui aderiscono oltre 5.000 soci, che vuol dire oltre 5.000 famiglie nella nostra regione. Abbiamo realizzato circa 2.000 alloggi, di cui due getto a Fogligno. Abbiamo tutta una serie di iniziative che poi stanno per battire anche su Fogligno. Quindi le cooperative vere crescono e si sviluppano se sono in correlazione stretta con la collettività e con il territorio. Per noi è sembrato naturale ricambiare la fiducia alle iniziative che Copumbria Cassa porta avanti, istituendo nel 1994 il Fondo di Ubalità e Solidarietà, un fondo che l'Assemblea dei Soci ogni anno decide di destinare per iniziative a favore del territorio. E questa non è la prima volta che destiniamo un automezzo o una donazione a favore della Croce Bianca di Fogligno. Anche alcuni anni fa facciamo questa iniziativa, anche allora era Presidente Nando Mismetti, allora il Presidente era Radi. Quindi una storia che si ripende. E questo mi sembra una cosa importante, cioè il fatto che un'associazione importante come la Croce Bianca di Fogligno che ha oltre 100 anni di vita e una cooperativa che ha oltre 25 anni di vita si incrociano più volte proprio per questi atti di liberalità e di solidarietà a favore del territorio. Questo speriamo che ce ne siano altri, che vuol dire che sia la cooperativa che l'associazione avranno dei programmi anche per il futuro e noi su questo intendiamo portare avanti queste iniziative perché per noi sono il dividendo sociale che la cooperativa riconosce al territorio per la fiducia che il territorio gli dà. Grazie.